Benvenuti nel podcast di Caliburn, dove il Medioevo è infinito! Siamo giunti al sesto canto del Paradiso. Qui Dante e Beatrice si trovano nel secondo cedo, quello di Mercurio, e parleranno con l'imperatore Giustiniano, il quale racconterà loro la grande storia dell'impero e la sua importanza nella storia. Ed ora iniziamo con la lettura. Posce che Costantin l'aquila volse contro il corso del ciel, che la seguì dietro all'antico che la vigna tolse. Cento e cent'anni e più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne, vicino a monti de quai prima uscìo. E sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano, e, sì cangiando, in sulla mia pervenne. «Cesare fui, e son Giustiniano, che, per voler del primo amor che io sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. E prima che io all'ovra fossi attento, una natura in Cristo esser non più credea, e di tal fede era contento. Ma il benedetto Agapito, che fu e sommo pastore, alla fede sincera mi dirizzò con le parole sue, e io li credetti. E ciò che in sua fede era, veggio oro chiaro sì, come tu vedi ogni contraddizione è falsa e vera. Posto che con la Chiesa mossi i piedi, a Dio per grazia piacque di ispirarmi, l'alto lavoro, e tutto in lui mi diedi. Al mio Belisar commendai l'armi, cui la destra del cielo fu si congiunta, che segno fu che io dovessi posarmi». Nel canto precedente avevamo lasciato Dante chiedere ad uno spirito in particolare chi fosse e qual era la condizione di quelle anime. E in questo canto Dante avrà la sua risposta. Infatti in questo canto la risposta di quest'anima occupa l'intero canto, cosa unica nell'intera divina commedia. Questo spirito inizia il suo discorso con un'immagine che si ripeterà per l'intero canto, cioè l'autorità imperiale impersonificata nell'aquila imperiale, cioè il simbolo stesso dell'autorità imperiale. Dice infatti che dopo che Costantino portò l'aquila imperiale contro il corso del cielo, cioè da occidente verso oriente, questo uccello divino passò di mano in mano fino a quando non giunse nelle sue. Questa storia quindi inizia con lo spostamento della capitale dell'impero romano da Roma a Costantinopoli, a opera appunto dell'imperatore Costantino. Questo spostamento avviene in senso contrario al corso del cielo, cioè al corso del sole, il quale, come sappiamo, va da oriente verso occidente. Questo spostamento della capitale da Roma a Costantinopoli viene visto, secondo le parole di Dante, quasi come un rimprovero verso Costantino, in quanto va contro il corso naturale del sole e di conseguenza contro il corso naturale voluto da Dio. Infatti, come la fede partì da oriente per arrivare in occidente e stabilirsi a Roma, così anche l'autorità imperiale partì da oriente, da Enea, un principe troiano che attraversò il mare e arrivò fino nel Lazio. Quindi questo spostamento della capitale attuato da Costantino agli occhi di Dante viene visto come qualcosa di negativo, soprattutto se lo leghiamo ad un altro fatto che va di pari passo con questo spostamento, cioè con la famigerata donazione di Costantino, che, come abbiamo potuto vedere, per Dante era qualcosa di inconcepibile e che andava contro a ogni legge, sia umana che divina. E non è un caso che a parlare, appunto, in questo canto è l'imperatore Giustiniano, il quale è famoso per essere stato un legislatore. Ed infatti, quando si presenta a Dante, ricorda il suo nome e il suo fatto di essere un imperatore romano, ma chiarisce subito che fu proprio lui, grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, a promulgare le leggi. Giustiniano, infatti, è famoso per aver promulgato il Corpus Iuris Civilis, una raccolta di leggi che divenne ben presto la base per il diritto in qualsiasi paese d'Europa, fino all'età moderna e quindi, per Dante, è il legislatore per eccellenza. Giustiniano, dopo essersi presentato come imperatore romano e come legislatore, racconta a Dante che, prima di dedicarsi a questa opera di raccolta delle leggi, era un eretico. Seguiva, infatti, l'eresia monofisita, cioè quell'eresia che crede nell'unica natura divina di Cristo e non in quella umana. Ma, grazie alle parole del Papa Agapito, venne indirizzato alla vera fede, quella vera fede che solamente ora che è in paradiso può comprendere appieno. Per Dante, quindi, Giustiniano inizialmente era monofisita. In realtà, questo non lo sappiamo. Sappiamo per certo che Teodora, la moglie di Giustiniano, era monofisita, ma non siamo certi che lo fosse anche Giustiniano. Una volta che Giustiniano si convertì alla vera fede, abbandonando il credo monofisita, l'imperatore Giustiniano poté dedicarsi alla sua opera, il Corpus Iuris Civilis. In realtà, quando Papa Agapito salì al pontificato nel 533, il Corpus Iuris Civilis era già stato compiuto. Dante, infatti, in questo caso probabilmente si rifà al cronista medievale Martino Polono, il quale registra questi fatti nell'ordine dato da Dante. Ma Dante ne amplia il significato, sottolineando il fatto che quest'opera, il Corpus, fu resa possibile grazie all'intervento dello Spirito Santo. E quindi solamente quando c'è un perfetto accordo tra impero e la Chiesa può nascere un'opera grandiosa come il Corpus Iuris Civilis. E Giustiniano si dedicò anima e corpo a quest'opera affidando invece l'attività militare al suo Belisario il quale fu un grande e famoso comandante celebre per aver scacciato i vandali dall'Africa e per aver riconquistato l'Italia occupata dai Goti. Ciò che Dante invece ignora di questa storia è il fatto che in realtà Giustiniano non fu poi così tanto benevolo con il suo Belisario in quanto lo fece ben presto incarcerare temendo il potere che stava man mano acquisendo grazie alle sue imprese militari. Giustiniano quindi in questi primi versi risponde a quella che è la prima domanda di Dante cioè chi fosse ma a questa risposta Giustiniano sente di dover dare un'aggiunta e questa aggiunta lo vediamo nei prossimi versi. Continuiamo quindi con la lettura del canto. Or qui alla question prima s'appunta la mia risposta ma sua condizione mi stringe a seguitare alcuna aggiunta perché tu veggi con quanta ragione si muove contro il sacro santo segno e chi il sa propria e chi a lui soppone vedi quanta virtù l'ha fatto degno di reverenza e cominciò dall'ora che pallante morì per dargli il regno e tu sai che fece in alba sua dimora per trecento anni e oltre infino al fine che i tre a tre pugnar per lui ancora e sai che fe dal mal delle sabine al dolor di lucrezia in sette regi vincendo intorno le genti vicine sai quel che il fe portato dagli egregi romani incontro a brenno incontro a pirro incontro agli altri principi e collegi onde torquato e quinzio che dal cirro negletto fu nomato i deci e fabi e per la fama che volentier mirro esso atterrò l'orgoglio degli arabi che di retro ad annivale passaro l'alpestre rocce po' di che tu labi sottesso giovinetti trionfaro scipione pompeo e a quel colle sotto il quale tu nascesti parve amaro poi presso il tempo che tutto il cel volle redur lo mondo a suo modo sereno cesare per voler di roma il tolle e quel che fe davaro infino arena isara vide ed era ed vide senna e ogni valle onde rodano e pieno e quel che fe poi che li uscì di ravenna e saltò rubicon fu di tal volo che non seguiteria lingua né penna in verla spagna rivolse lo stuolo poi verdurazzo e farsalia percosse sì che al nil caldo si sentì del duolo antandro e sime onta onde si mosse rivide e là dove Ettore si cuba e mal per tolomeo poscia si scosse da indi scese folgorando a iuba onde si volse nel vostro occidente ove sentìa la pompeana tuba di quel che fe col bagiuolo seguente brutto con cassio nell'inferno latra e Modena e Perugia fu dolente piangene ancor la trista cleopatra che fuggendoli innanzi dal colubro la morte prese subitana e atra con costui corse infine lito rubro con costui puose il mondo in tanta pace che fu serrato a giano il suo delubro ma ciò che il segno che parlarmi face fatto avea prima e poi era fatturo per lo regno mortal che lui soggiace diventa in apparenza poco e scuro se in mano al terzo cesare si mira con occhio chiaro e con affetto puro che la viva giustizia che mi ispira li concedette in mano a quel ch' io dico gloria di far vendetta alla sua ira or qui t'ammira in ciò che io ti replico posce contito a far vendetta corse dalla vendetta del peccato antico e quando il dente longobardo morse la santa chiesa sotto le sue ali carlo magno vincendo la soccorse in questa seconda parte del canto giustiniano continua facendo una digressione raccontando in maniera mirabile la storia dell'impero raccontando la storia dei personaggi principali che hanno fatto la storia dell'autorità imperiale a cominciare da Pallante l'eroe virgiliano che grazie al suo sacrificio fece si che Enea riuscisse a conquistare il regno del Lazio diventando quasi il capostipite dei futuri grandi romani che grazie alla loro virtù fecero grande l'impero da Pallante si passa alla sfida degli Orazzi e dei Curiazzi che stabilì quale città tra Roma e Alba Longa dovesse avere l'autorità imperiale giustiniano poi diciamo sorvola un po' sul periodo monarchico racchiudendolo tra due grandi fatti cioè il rato delle Sabine e il sacrificio di Lucrezia per poi passare ai grandi eroi dell'età repubblicana quei condottieri che si scontrarono contro Brenno oppure contro Pirro e molti altri principi di quell'epoca come ad esempio Torquato cioè Tito Maglio Torquato che sconfisse i latini e Galli oppure Quinzio cioè Tito Quinzio Cincinnato che venne eletto dittatore per la guerra contro gli Equi e lasciò l'aratro per seguire l'esercito e una volta conseguita la vittoria tornò al suo aratro oppure anche i Deci e i Fabi due importantissime famiglie romane che diedero molti eroi a Roma Giustiniano poi prosegue il suo racconto parlando di Annibale e della guerra contro Cartagine che videro come vincitori due grandi condottieri e all'epoca ancora molto giovani cioè Scipione l'Africano e Pompeo vi sono poi parole anche per la Firenze di Dante per la quale l'Aquila imperiale fu amare infatti in quell'epoca Fiesole la collina dove sarebbe sorta Firenze venne distrutta dai romani per aver dato rifugio a Catilina e con questo si conclude la storia repubblicana ed inizia la storia imperiale proprio con Giulio Cesare come sappiamo per Dante Giulio Cesare fu il primo imperatore romano e in pochi versi Dante riassume tutte le grandi imprese di Giulio Cesare dalla campagna in Gallia all' attraversamento del Rubicone fino alla campagna in Spagna contro Pompeo e la vittoria di Farsalo la deposizione di Tolomeo a favore di Cleopatra e la campagna contro Giuba il re della Mauritania in questi brevi versi vediamo appunto Giulio Cesare scagliarsi contro chiunque come una setta come a sottolineare la potenza dell'autorità imperiale e dopo Cesare tocca ad Augusto il quale vendicò l'assassinio di Cesare sconfiggendo Bruto e Cassio e facendo sì che la triste Cleopatra si suicidasse con un serpente ed è a questo punto che finalmente abbiamo un lungo periodo di pace nel quale il tempio di Giano rimane chiuso cosa che non avveniva da secoli infatti il tempio di Giano rimaneva con le porte spalancate durante i periodi di guerra la pace augustea viene sottolineata per via del fatto che è appunto in questo periodo che nacque Cristo e come ben sappiamo la pace augustea nel medioevo è stata molto esaltata appunto per questo fatto e dopo Augusto abbiamo il terzo imperatore che per Dante è ancora più importante dei primi due cioè Tiberio in quanto fu durante il suo impero che avvenne la vendetta nei confronti del peccato originale con la crocifissione di Gesù Cristo Tiberio infatti nel medioevo venne molto esaltato come imperatore appunto perché durante il suo impero avvenne la redenzione di Gesù Cristo e secondo anche alcune leggende fu proprio lui a mettere a morte Ponzio Pilato per aver messo a morte Gesù Cristo ed infine arriviamo all'imperatore Tito che fece vendetta della vendetta sul peccato originale con la distruzione di Gerusalemme Tito infatti viene visto come una punizione divina contro gli ebrei che hanno messo a morte Gesù Cristo da Tito poi abbiamo un enorme salto temporale arrivando a Carlo Magno che soccorse la Santa Chiesa contro le mire Longobarde e con questo abbiamo appunto una sorta di unione tra l'antico impero romano e il nuovo impero il sacro romano impero cosa che legittima agli occhi di Dante l'imperatore del sacro romano impero come unico erede dell'autorità imperiale ma per quale motivo giustiniano fa questa enorme digressione sulla storia dell'impero romano scopriamo insieme nell'ultima parte del canto o mai puoi giudicardi quei cotali che io accusai di sopra e di loro falli che sono cagion di tutti i vostri mani l'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone e l'altro appropria quello a parte sì che è forte a vedere chi più si falli faccian di ghibellin faccian loro arte sott'altro segno che malsegue quello sempre chi la giustizia è lui di parte e non l'abbatta esto carlo novello coi guelfi suoi ma tema degli artigli che a più alto leon trasser novello molte fiate già piancer di figli per la colpa del padre e non si creda che dio trasmuti l'arme per suoi gigli questa picciola stella si correda di buoni spiriti che sono stati attivi perché onore e fama li succeda e quando li disiri poggian quivi si disviando pur convien che i raggi del vero amore in su poggin men vivi ma nel commensurar di nostri gaggi col merto è parte di nostra letizia perché non li vedem minor né maggi quindi addolcisce la viva giustizia in noi l'affetto sì che non si può torcer già mai ad alcune nequizia diverse voci fanno dolci note così diversi scanni in nostra vita rendon dolce l'armonia tra queste rote e dentro alla presente margarita luce la luce di romeo di cui fu l'ovra grande e bella malgradita ma i provenzai che fecer contra lui non hanno riso e però mal cammina qual si fa danno del ben fare altrui quattro figlie ebbe e ciascuna reina Raimondo Beringhiere e ciò li fece a Romeo persona umile e peregrina e poi il mosser le parole diece a dimandare ragione a questo giusto che gli assegnò sette e cinque per diece indi partissi povero e vetusto e se il mondo sapesse il cor che li ebbe mendicando sua vita a frusto a frusto assai lo loda e più lo loderebbe a questo punto arriviamo al vero nocciolo della questione cioè dopo aver rimarcato la grandiosità della storia imperiale giustiniano arriva ai giorni nostri anzi ai giorni di dante condannando sia i guelfi che i ghibellini i guelfi perché si oppongono all'autorità imperiale opponendogli i gigli gialli della casata di Francia mentre i ghibellini si sono appropriati di questo simbolo imperiale separandolo però dalla giustizia e facendone quindi di un cattivo uso di questo importantissimo simbolo ma se il simbolo imperiale è guastato dai ghibellini i guelfi capitanati da Carlo II d'Angelo non devono certo rallegrarsi ma anzi devono temere l'aquila imperiale in quanto i suoi artigli hanno scuoiato leoni molto più importanti e feroci di Carlo d'Angelo dopo questa accusa di giustiniano rivolta sia a guelfi che a ghibellini arriva a rispondere al secondo quesito di Dante cioè che spiriti dimorano in questo cielo cioè dimorano gli spiriti operanti per la gloria terrena sono dunque spiriti che hanno sì operato nella gloria di Dio ma ricercando onore e fama e quindi è inevitabile che quando i desideri sono rivolti verso l'onore e la fama l'amore rivolto verso Dio sia in qualche modo minore nonostante ciò hanno comunque operato secondo giustizia e giustiniano nel rispondere a questa domanda rivolta da Dante in qualche modo previene anche un po' quello che potrebbe essere un altro quesito che è lo stesso quesito fatto a Piccarda cioè pur essendo in uno dei cieli più bassi sono comunque felici e non vogliono avere di più di quello che in realtà meritano e per rendere più chiaro il concetto Giustiniano paragona questa condizione ad un coro dove la diversità delle voci contribuisce a creare l'armonia a conclusione del canto giustiniano presenta a Dante un'altra anima che lì accanto a lui cioè quella di Romeo di Villanova e ne presenta la sua storia Romeo di Villanova era infatti il primo ministro del conte di Provenza Raimondo Berenghieri il quale arrivò pellegrino appunto Romeo Romita a corte di Raimondo e lo servì fedelmente per quasi tutta la sua vita e si comportò così bene che riuscì a far sposare le quattro figlie di Raimondo e farle diventare tutte e quattro regine l'invidia però degli altri cortigiani non tardò ad arrivare e venne cacciato dalla Provenza finendo i propri giorni in povertà ma i provenzali che lo ebbero cacciato ebbero ben presto a pentirsene infatti dopo la morte del conte la Provenza finì nelle mani di Carlo I d'Angiò e le cose per loro andarono di male in peggio la figura di Romeo di Villanova diventa un po' un alter ego di Dante stesso in quanto come Dante anche Romeo dopo aver fatto tanto del bene alla sua patria venne esiliato e coloro che lo esiliarono ebbero ben presto a pentirsene ciò che viene esaltato nella storia di Romeo è la rassegnazione con cui Romeo accetta il suo destino così come anche per Dante ormai dopo anni di esilio con rassegnazione accetta il suo esilio il sesto canto infatti come tutti i sesti canti della divina commedia è un canto politico come abbiamo potuto vedere soprattutto con la condanna sia dei guelfi che dei ghibellini e in questo canto politico il panorama si amplia ulteriormente infatti nel canto sesto dell'inferno il discorso il discorso politico era incentrato alla sola Firenze nel canto del purgatorio si ampliava all'Italia intera ed ora siamo all'Europa intera ed è proprio qui che viene alla luce il pensiero politico di Dante che già possiamo vedere nella monarchia e nel convivio e cioè che tutta questa instabilità politica è dovuta al fatto che manca questa autorità imperiale e Dante per tutta la sua vita sperò nella restaurazione di questa autorità in quanto senza un potere imperiale forte è come se mancasse un pastore a questo gregge un'autorità che la sola autorità della chiesa non può e non deve cercare di sopperire termina così anche il sesto canto del paradiso un saluto da Caliburn e ci sentiamo nel prossimo episodio e ci sentiamo